Ecco partita anche la finale 5.000 punti agli eri maschi, sempre 28 giri, sempre la prima campana a meno 25 e poi da lì ai tutti i giri vari si atteggiano i punti. Ricordo che la gara è visibile in streaming sul sito www.rollenrace.it e che i risultati possono essere consultati sul sito della Federazione Italiana Sport Rotellistici nella sezione corta. Ha munito intanto il numero 173. Ecco la prima campana del meno 25, il ritmo è partito subito molto forte con questa gara degli eri maschi. Infatti il nostro posto è subito decompattato e ci sono già due crediti che stanno tentando la fuga ma gli altri titoli non mollano e sono pronti a inseguire anche perché siamo soltanto all'inizio di questa gara. Quindi ancora nulla è detto. 2,80 e 287 a cui sono stati assegnati i primi punti. Adesso è suonata la campana del meno 23 quindi ora verranno assegnati i punti del meno 23. Ancora 2,80 e 287 a cui sono stati assegnati i punti del meno 23. 2,80 e 287 a cui sono stati assegnati i punti del meno 23. Ecco la campana del meno 19, intanto ci sono quattro atleti che si sono portati definitivamente in testa al gruppo e hanno fatto il vuoto dietro di loro. dietro c'è tutto il resto del gruppo che sta provando a inseguire, sta provando a recuperare. 2,80 e 287. Ancora loro i punti del meno 18, tra un po' suonera la campana del meno 17. quindi stiamo entrando nella seconda parte di gara, siamo proprio al giro di Boa. Ed è proprio in questi momenti che la gara si inizia a fare più avvincente. 297, 270. Ecco la campana del meno 15. 280 e 270, mentre ancora in tutto fondo si sente questa banda che suona, che veramente dà un po' suonere ancora più di pezza. questa giornata che è una vera e propria festa dello sport, questo lo dobbiamo assolutamente dire. Adesso questa è la campana del meno 13, abbiamo in testa ancora questo gruppetto di quattro atleti che ormai ha consolidato una posizione che sarà molto difficile da stanzare. però c'è molto movimento nel gruppo dietro, perché dietro comunque si gioca delle posizioni importanti. Quindi il gruppo si sta allungando, si sta sfilacciando. Allora, 270 e 297, chiedo scusa per l'errore. Adesso invece verranno assegnati i punti del meno 12. 280 e 297. ecco la campana del meno 9. 297 e 270 per questi ultimi punti. e questa è la campana del meno 7. 297 e 280, adesso sta per suonare la campana del meno 5. e quindi siamo proprio in dirittura d'arrivo, ma la situazione non è molto cambiata rispetto a prima. Abbiamo ancora quattro atleti a dominare il gruppo, però uno dei quattro ha fatto il vuoto rispetto agli altri tre. Poi, c'è tutto il gruppo finale con passo che sta inseguendo, 280 e 297 intanto per i punti del meno 4. Ecco la campana del meno 3, adesso in testa ci sono tre atleti. e quindi c'è uno dei 4 che guidava il gruppo, adesso si è fatto scivolare indietro ed è rientrato nel gruppo che chiude. 280 e 297 intanto. e adesso sta per suonare la campana dell'ultimo giro. Ecco la campana dell'ultimo giro. facciamolo sentire il tipo a questi ragazzi che stanno chiudendo adesso il gruppo di un'ultimo giro. E che non vogliono volare assolutamente niente. Anche purtroppo chi è caduto, c'è stata appena adesso una caduta, dispiace sempre. Quando succede questo, intanto, 81, 300, 304 e 280. Facciamo un grandissimo applauso agli allievi maxi che troveremo domani.